Sono partiti nel pomeriggio di ieri dall'ospedale di Pesaro i primi trattamenti nelle marche con gli anticorpi monoclonali, il cui arrivo era stato annunciato nel corso dell'ultimo consiglio regionale dall'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. I primi a sottoporsi alla cura sono stati tre pazienti trapiantati di rene, che di recente hanno sviluppato l'infezione da covid e per i quali, vista la patologia di fondo, sono più elevati i rischi di sviluppare una forma grave della malattia. Prime infusioni che si sono svolte senza problemi, come racconta il primario di medicina subintensiva di Marche Nord, Gabriele Frausini. È andata bene, siamo partiti ieri sera, abbiamo somministrato questa nuova terapia che è la prima vera terapia per i pazienti ambulatoriali, cioè pazienti che non necessitano del ricovero ospedaliero perché hanno una forma di malattia abbastanza lieve, ma che per tutta una serie di fattori di rischio che hanno immunodepressi, trapiantati o con patologie serie, ci aspettiamo che avrebbero potuto sviluppare una malattia anche severa. Questi pazienti verranno monitorizzati con la telemedicina, dovrebbero avere un calo della viremia repentino, si parla anche di 48 ore, quindi dovrebbero avere un decorso di malattia favorevole. Ci sono dei criteri stabiliti dall'AIFA che prevede tutta una serie di patologie che rendono questi pazienti fragili, i grandi obesi, i diabetici scompensati, i trapiantati, i pazienti neoplastici, i pazienti con gravi problematiche polmonari. Tutti questi pazienti pur avendo una forma lieve sono come dicevamo pazienti che potrebbero sviluppare forme estremamente severe per cui vanno trattati in maniera precoce, precoce entro i primi 7-10 giorni della disorgenza dei sintomi. Ci sono delle prenotazioni, queste prenotazioni vengono per il momento da strutture ospedaliere che seguono ambulatorialmente pazienti estremamente fragili, arriveranno presto anche le richieste del territorio. È uno sforzo della Regione, del Presidente, dell'Assessore, della Direzione di Marche Nord e di tutti noi che ci stiamo occupando di questo maledetto virus ormai da più di un anno e vorremmo venirne fuori più presto. Questa è una grossa arma, speriamo che dia i risultati che noi ci attendiamo. Si parla di una riduzione del 70% dell'ospedalizzazione nei pazienti che vengono sottoposti a questa terapia. Gli anticorpi monocronali si apprestano ad essere dunque una nuova e decisiva arma contro il Covid, come evidenziato anche dal dottor Frausini, il quale ha però sottolineato la primaria importanza di sottoporsi alla campagna di vaccinazione, vista anche la riabilitazione delle dosi AstraZeneca. Il mio parere è un parere che non nasce da impressioni, nasce dai numeri. Quei pochi casi che ci sono stati, che non sono in relazione alla vaccinazione, ma sono avvenuti nel contesto di una vaccinazione, non ci devono assolutamente, ripeto assolutamente, forviare da quello che è il nostro grande scopo, di vaccinare tutta la popolazione per arrivare all'immunità di gregge. I numeri che ci dicono di queste trombosi sono assolutamente ridicoli e estremamente inferiori a quello che succede nella popolazione normale non vaccinata. E proprio in seguito all'annuncio dell'EMA relativo alla riabilitazione del vaccino AstraZeneca, nel fine settimana ripartiranno anche nelle Marche le somministrazioni per chi, già nelle scorse giornate, doveva ricevere la prima dose del vaccino. Tutte le persone che negli ultimi giorni hanno visto annullata la propria prenotazione saranno contattate per ricevere le indicazioni relative a giorno, luogo e orario del nuovo appuntamento. Il centro Monaldi, nel quale anche nell'ultima settimana non si sono mai interrotti i richiami per chi aveva già ricevuto la prima dose Pfizer o Moderna, dovrebbe riaprire i propri cancelli per accogliere le nuove prenotazioni assegnate nella giornata di domenica. Si ricorda a tutti gli utenti interessati di seguire in ogni caso i dettagli e le informazioni che saranno comunicate telefonicamente dagli operatori preposti. Il recupero di tutti gli appuntamenti è previsto entro il 31 marzo.